Con Pistunina e Sporting Taormina ha fatto vedere le sue qualità e adesso è arrivato il momento di confermarle. Agatino Dadone ha saputo approfittare dell'infortunio di Daniel Aleo per prendersi una maglia da titolare nel Giarre che sta provando a concludere il girone d'andata nelle migliore dei modi. Alla fine qui è una buona piazza, formata da ottimi giocatori, i ragazzi sono anche alcuni catanesi come me, bene o male, già il Regatane è sempre vicino, quindi non c'è un problema anche come stare in campo. Domenica col Torre Grotta è l'occasione perfetta anche per il primo gol in giallo-blu, in questo momento ti manca solo quello? Sì, sì, cercherò tutti i costi, non perché il Torre Grotta ha due punti ma è sempre una squadra con cui dobbiamo mettere testa, dobbiamo allenarci al massimo tutte le settimane e preparare la partita in maniera adeguata. Tornerà a Taormina d'avversario, Domenica che effetto ti ha fatto? Tra l'altro si è visto veramente un grande Giarre. Sì, sì, ho dato il meglio di me perché volevo mostrare sia a loro che al Giarre che io ho voglia di giocare e voglia di mostrarmi e fare bene.